Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro The Master e questo è il mio terzo video su Aoni Allora siamo nel menu perchè, vabbè ho stoppato la partita e comunque volevo dirvi alcune cose Allora, prima di tutto non sapevo che i miei video non erano in HD perchè comunque con il mio programma, insomma, non voglio pubblicizzare Per il mio programma, cioè, mi diceva, ok, mettiamo in 720, vabbè, insomma, e niente, non me li metteva in HD Perciò adesso spero che questa venga in HD, vabbè, iniziamo, va Ok, continuo, eccoci qua, eravamo qui nella nostra nuovissima casa E vabbè, eccola qui Ok, ecco appunto Si Combustibile dell'accendino Ok, cosa qui? Foglio bianco Ok, andiamo giù Vediamo qui che cosa Dio, buono No, non mi sto per buttare un'altra volta Allora, adesso Saliamo Adesso c'abbiamo Ancora no Merda Oh, sei tu, adesso Non spaventarmi in questo modo Takashi, stai bene Sì, ma è una questione di tempo prima che venga catturato da quel mozzo Non c'è luogo dove fuggire Se solo io, se solo io non avessi suggerito di venire qui non saremmo in questo casino Eh, è tutta colpa mia Ah Takashi, che cazzo fai? Oh, che bello, l'ho stato Voglio buttare dalle scale perché se lo merita Eh, infatti Pietra blu No, aspetta, aspetta Prima facciamo così così non rompe Proviamo ad accendere il cammino Vediamo se Oh, Cristo C'è il cammino No Vosì, adesso se scende crepa Basta, donne blu Viola, vabbè, quello che è Andiamo Sopra? Andiamo giù, sì Andiamo qui, non l'abbiamo ancora visto a questo posto Qui Qui No, 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 proprio no Proprio no Tanto oggetto bambola Va bene Odio le bambole Cioè, mi fanno schifo proprio Quindi La bruciamo Non credo si possa Però vabbè Bambola No Ho sprecato una bambola Mia figlia cosa dirà adesso Ho trovato l'oggetto pietra rossa Vabbè Forse No No Vabbè Vabbè Ma che cos'è Ma che cos'è Ma che Do fa Ah, forse Ah Forse gli occhi delle bambole li devo rimontare Vediamo qui Eh appunto Oggetti Pietra rossa L'anserito l'abbiamo Eh no, davvero Oddio, magia No, bambolina Si mette la lampadina Ma che cos'è Ma che cos'è Che c***o Che schifezza E mi ritorno a fan E mi ritorno a fan Anche culo Vabbè dopo ci andiamo Intanto Ah adesso No Il mio amico No 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 Perché Ah adesso possiamo Forse Vabbè Evviva E non abbiamo visto codice Mi pare Cerchiamo nelle stanze Ecco Qui no Qui No Qui Qui Ehm Qui No Qui 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 No Che so Qui Oh C'è uno scritto Vedi 290 Aspetta Tantora di sicuro Usci la No Non esce Ora non credo 290 290 290 290 290 290 290 290 Evviva Ha stato il tetto chiave della cantina Porca puttana Aspetta Povero ragazzo Oh ma che Lo diavolo Ho preso Lo sapevo Ma laoni biondo No proprio Non si può vedere Siamo arrivati a 7 minuti Eh Una volta mi freghi Due no Ma che cazzo Stupidi game over Allora Allora adesso Guardate Qui Ecco Tra un lato Ciao Che cazzo Che cazzo Che cazzo Non l'avete visto L'ho visto solo io Aperto Con le mani Con le mani a oni Che cazzo Che cazzo Che cazzo oggi si è risvegliato quello abbiamo preso il codice che ci ha dato chiamate la cantina cantina il mio primo non ho visto cantina ah! nella porta quella della telebambole vi lascio col mistero del cosa ci sarà dietro questa porta tutto tutto figura di il mistero c'è sempre va bene ragazzi è finita ciao a tutti